Non si sapeva né dove bene, come era andata, cosa era successo di preciso, a che ora, niente. Né come era morta e noi abbiamo vissuto per tanti anni con questa... ma perché? Ci sono voluti quasi 57 anni per riconoscere come vittima dell'alluvione del 4 novembre del 1966 Mario Maggi, operaio edile di Castella San Nicolò, travolto da una frana sulla Bolognese a Firenze. Fu lui la prima vittima della furia dell'Arno. È vero che la morte è sempre morte, però almeno sapere il perché. Una lunga battaglia portata avanti dalla figlia assieme al comune di Castella San Nicolò e l'associazione Firenze Promuove. Una soddisfazione, avrei voluto dire a mamma, ecco guarda è successo così. Mario Maggi attorno a Luna fu sbalzato all'esterno del camion, morì nell'esondazione del torrente Mugnone. Siamo riusciti a ritrovare il vigile che è intervenuto sul momento. Quindi siamo arrivati a capire che il mio papà non era morto il 4 mattina, ma era morto il 4 alle prime luci dell'alba. Finora il suo nome non era considerato ufficialmente tra le vittime, pur comparendo invece come tale da giornali dell'epoca che ne pubblicarono il nome. E poi a una morte sul lavoro, magari nel 1966 la sensibilità era minore, oggi invece le morti sul lavoro comunque rappresentano per la società un difetto di protezione importante. E quindi questo riconoscimento, oltre che prima vittima dell'alluvione di Firenze, anche una vittima sul lavoro. Il prossimo 4 novembre la cerimonia sul riconoscimento ministeriale nella Basilica di Santa Croce a Firenze. Domenica 5 novembre la commemorazione al cimitero di Castel San Nicolò. È comunque un evento simbolico importante.